Il salice schiaffeggiante La fine delle vacanze estive arrivò troppo presto per i gusti di Harry. Non vedeva l'ora di tornare a Hogwarts, ma il mese passato alla Tana era stato il più felice della sua vita. Gli riusciva difficile non invidiare Ron quando pensava ai Dursley e al benvenuto che doveva aspettarsi da parte loro, non appena avesse rimesso piede a Privet Drive. L'ultima sera la signora Weasley organizzò una cena sontuosa, con tutte le pietanze preferite di Harry e per finire un budino di melassa da far venire l'acquolina in bocca. Fred e George conclusero degnamente la serata con uno spettacolo di fuochi d'artificio filibuster, inondando la cucina di stelle rosse e blu che rimbalzarono dal soffitto alle pareti per una buona mezz'ora. Infine venne il momento di un'ultima tazza di cioccolata calda, e poi a letto. La mattina dopo ci volle un bel po' prima che tutti fossero pronti a partire. Si erano alzati al canto del gallo, ma non si sa come tutti avevano un mucchio di cose da fare. La signora Weasley correva di qua e di là in cerca di calzini spaiati e di penne d'oca. Nel trambusto tutti si scontravano su e giù per le scale, mezzi svestiti e masticando pane tostato, e poco mancò che il signor Weasley non si rompesse il collo inciampando in una gallina mentre attraversava il cortile per caricare in macchina il baule di Ginny. Harry non capiva in che modo otto persone, sei grossi bauli, due gufi e un topo potessero entrare in una piccola Ford Anglia. Ma naturalmente non aveva fatto i conti con le modifiche speciali apportate dal signor Weasley. Non una parola con Molly, bisbigliò quest'ultimo a Harry quando aprì il bagagliaio e gli mostrò l'incantesimo che aveva fatto per allargarlo, così da farci entrare agevolmente i bauli. Quando finalmente furono tutti in macchina, la signora Weasley diede un'occhiata al sedile posteriore, dove comodamente seduti uno accanto all'altro c'erano Harry, Ron, Fred, George e Percy, e disse «I babbani ne sanno più di quanto noi non crediamo, vero?» Lei e Ginny si installarono sul sedile anteriore, che era stato allungato tanto da assomigliare a una panchina del parco. «Voglio dire, dal di fuori, non si direbbe mai che questa macchina è così spaziosa, non trovate?» Il signor Weasley mise in moto e l'auto si avviò fuori dal cortile. Harry si voltò a dare un'ultima occhiata alla casa, ma non aveva fatto in tempo a chiedersi quando l'avrebbe rivista, che già erano tornati indietro. George aveva dimenticato la scatola dei suoi fuochi d'artificio filibuster. Cinque minuti dopo, nuova brusca frenata nel cortile perché Fred doveva correre a prendere la sua scopa. Avevano quasi raggiunto l'autostrada quando Ginny, con uno strillo, disse di aver dimenticato il diario. Quando la ragazzina si fu di nuovo arrampicata in macchina, erano decisamente in ritardo e gli animi si stavano surriscaldando. Il signor Weasley guardò l'orologio, poi sua moglie. «Molly, mia cara!» «No, Arthur!» «Ma nessuno ci vedrebbe! Questo bottoncino qui è il turbo invisibile che ho installato, che ci farebbe sollevare e poi voleremmo sopra le nuvole. Arriveremmo in dieci minuti e nessuno ne saprebbe niente!» «Ho detto di no, Arthur! Non in pieno giorno!» Arrivarono alla stazione di King's Cross alle undici meno un quarto. Il signor Weasley attraversò di corsa la strada per procurarsi i carrelli portabagagli e poi tutti insieme si precipitarono in stazione. Già l'anno prima Harry aveva preso Logworth Express. Il difficile era arrivare al binario nove e tre quarti, ben nascosto agli occhi dei babbani. Per riuscirci bisognava passare attraverso la solida barriera che divideva le banchine nove e dieci. Non faceva male, ma era un'impresa che richiedeva molta concentrazione perché i babbani non si accorgessero che uno spariva. «Prima Percy!» disse la signora Weasley guardando nervosamente il grande orologio della stazione, dal quale risultava che avevano soltanto cinque minuti per scomparire tutti quanti disinvoltamente attraverso la barriera. Percy spiccò una corsa e sparì. Seguirono il signor Weasley, Fred e George. «Io vado con Ginny e voi due venite dietro di noi!» disse la signora Weasley a Harry e a Ron, afferrando la mano della ragazzina e avviandosi. In un batter d'occhio erano scomparse anche loro. «Andiamo tutti e due insieme, abbiamo solo un minuto di tempo», disse Ron a Harry. Harry si assicurò che la gabbia di Edwige fosse ben fissata sopra il baule e portò il suo carrello di fronte alla barriera. Si sentiva perfettamente sicuro di sé. Questo non era difficile come usare la polvere volante. Tutti e due i ragazzi si chinarono sull'impugnatura dei loro carrelli e si incamminarono verso la barriera, acquistando velocità. A pochi metri di distanza spiccarono una corsa e... «Crash!» Entrambi i carrelli urtarono contro la barriera e rimbalzarono all'indietro. Il baule di Ron ruzzolò con un gran tonfo. Harry fu scaraventato a terra, la gabbia di Edwige rimbalzò sul pavimento consumato e la civetta rotolò via, gridando indignata. La gente lì vicino li guardava con tanto d'occhi e una guardia li apostrofò. «Ma cosa diavolo vi salta in mente?» «Abbiamo perso il controllo del carrello», ansimò Harry tastandosi le costole mentre si rimetteva in piedi. Ron fece una corsa a riprendere Edwige, che stava facendo un tale baccano che il capannello di curiosi riuniti l'intorno aveva cominciato a inveire contro le crudeltà verso gli animali. «Perché non riusciamo a passare?» Sibilò Harry a Ron. «Non lo so». Ron si guardò disperatamente intorno. Una dozzina di curiosi li stava ancora osservando. «Perteremo il treno!» bisbigliò Ron. «Non riesco a capire perché il passaggio si sia chiuso». Harry alzò gli occhi sul gigantesco ororoggio, con una sensazione dolorosa alla bocca dello stomaco. «Dieci secondi! Nove secondi!» Portò avanti il suo carrello con cautela finché fu proprio contro la barriera e a quel punto spinse con tutte le sue forze. Il metallo rimase impenetrabile. «Tre secondi! Due secondi! Un secondo!» «È andata!» disse Ron frastornato. «Il treno è partito. E se papà e mamma non riescono a tornare indietro, hai mica qualche soldo dei babbani?» Harry rise cupamente. «I Darsley non mi danno la paghetta da circa sei anni». Ron appoggiò l'orecchio contro la barriera gelida. «Non si sente niente!» disse tutto teso. «E ora che facciamo? Non so quanto ci metteranno papà e mamma a tornare indietro». Si guardarono intorno. La gente li stava ancora osservando, soprattutto per via di Edvige, che continuava a starnazzare. «Penso che sia meglio se andiamo ad aspettarli in macchina», disse Harry. «Stiamo attirando troppo la ten...» «Harry!» esclamò Ron con gli occhi che gli brillavano. «La macchina!» «Sì, e allora? Possiamo volare con la macchina fino a Hogwarts?» Ma io pensavo «Siamo bloccati, giusto? E a scuola ci dobbiamo andare, giusto? E anche i maghi minorenni sono autorizzati a fare magie se si tratta di una vera emergenza. Articolo 19 o qualcosa di simile della legge sulla restrizione dei cosi». Il panico di Harry si trasformò di colpo in euforia. «Tu sai farla volare!» «Non c'è problema», disse Ron girando il carrello verso l'uscita. «Su, andiamo! Se ci sbrighiamo, riusciremo a seguire l'Hogwarts Express!» Si avviarono, fendendo la folla di babbani incuriositi. Uscirono dalla stazione e raggiunsero la strada laterale, dove era parcheggiata la vecchia Ford Anglia. Ron aprì il capiente portabagagli con qualche leggero colpetto di bacchetta. Caricarono di nuovo i bauli, misero Edvige sul sedile posteriore e salirono davanti. «Controlla che nessuno stia guardando», disse Ron accendendo il motore con un altro colpo di bacchetta. Harry sporse la testa fuori del finestrino. Sulla via principale il traffico era sostenuto, ma la strada dove si trovavano loro era deserta. «Via libera», disse. Ron premette un bottoncino d'argento sul cruscotto. La macchina divenne invisibile e altrettanto accadde a loro. Harry sentiva vibrare il sedile, sentiva il motore, si sentiva le mani poggiate sulle ginocchia e gli occhiali sul naso, ma quel che poteva vedere era diventato un paio di pupille fluttuanti a pochi metri da terra, in una squallida strada, piena di macchine parcheggiate. «Partenza!» disse la voce di Ron alla sua destra. Il suolo e gli edifici anneriti su entrambi i lati si allontanarono man mano che l'auto si sollevava. Nel giro di qualche secondo tutta Londra si stendeva ai loro piedi, fumosa e lucente. Poi ci fu uno scoppio e l'auto, Harry e Ron ritornarono visibili. «Oh oh!» esclamò Ron dando qualche colpetto al turbo invisibile. «È difettoso!» Entrambi lo presero a pugni. L'auto scomparve, poi riapparve di nuovo. «Tieniti forte!» gridò Ron e premette il piede sull'acceleratore. Si infilarono sparati nelle nuvole basse e dense come lana e tutto diventò opaco e brumoso. «E ora?» disse Harry sbattendo gli occhi davanti alla massa di nuvole compatte che li avvolgeva da tutte le parti. «Dobbiamo trovare il treno per sapere in quale direzione andare!» disse Ron. «Presto! Giù in picchiata!» Scesero di nuovo sotto le nuvole e si guardarono intorno, perlustrando a terra. «Eccolo!» gridò Harry. «Proprio là davanti!» L'Hogwarts Express si snodava sotto di loro come un serpente scarlatto. «Rottanord!» disse Ron controllando la bussola sul cruscotto. «Molto bene! Dovremmo solo fare un controllo ogni mezz'ora circa. «Tieniti forte!» E sparirono dentro le nuvole. Un attimo dopo sbucarono in un trionfo di luce. Era tutto un altro mondo. Le ruote dell'auto sfioravano il mare di soffici nubi. Il cielo era di un blu luminoso e infinito, sotto gli abbaglianti raggi del sole. «L'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci ora sono gli aeroplani», disse Ron. Si guardarono e scoppiarono a ridere, e per molto tempo non riuscirono a smettere. Era come essere immersi in un sogno favoloso. «Questo», pensava Harry, «era certamente il modo migliore di viaggiare, tra mulinelli e torri di nuvole bianche come la neve, comodamente seduti in un'auto baciata da un sole caldo e raggiante, con un pacco di caramelle nel cassetto del cruscotto e la prospettiva di far morire d'invidia Fred e George quando fossero atterrati trionfalmente sul grande prato davanti al castello di Hogwarts. Controllarono regolarmente il percorso del treno, mentre volavano sempre più a nord, e ogni immersione sotto le nuvole mostrava loro un paesaggio diverso. A Londra, che fu ben presto lontana, si sostituirono i contorni nitidi dei campi verdi, che si avvicendavano alla brughiera selvaggia color violaceo, ai villaggi dalle chiese piccole come giocattoli, e alla vista di una grande città bruricante di automobili, come tante formiche dai mille colori. Ma dopo molte ore trascorse senza eventi degni di nota, Harry dovette ammettere che un po' del divertimento era svanito. Le caramelle gli avevano messo una gran sete e loro non avevano niente da bere. Si erano tolti i maglioni, ma la t-shirt di Harry si appiccicava al sedile e gli occhiali continuavano a scivolargli sulla punta del naso sudato. Le forme fantastiche delle nuvole non gli interessavano più e pensava con nostalgia al treno che correva qualche miglio sotto di loro, dove una strega a paffutella spingeva un carrello da cui si poteva comprare succo di zucca ghiacciato. «Ma perché non erano riusciti a raggiungere il binario nove e tre quarti?» «Non dovremmo essere molto lontani, non trovi?» disse Ron qualche ora più tardi, con voce arrocchita, mentre il sole cominciava a sprofondare nelle nuvole sotto di loro, colorandole di rosa intenso. «Sei pronto per un altro controllo al treno?» L'Hogwarts Express era ancora sotto di loro e arrancava lungo il percorso tortuoso che oltrepassava una montagna con la vetta coperta di neve. Sotto il baldacchino di nuvole era molto più buio. Ron premette il piede sull'acceleratore e tornarono a risalire, ma il motore cominciò a gemere. I due ragazzi si scambiarono un'occhiata nervosa. «Probabilmente è solo affaticato!» disse Ron. «Non ha mai percorso distanze di questo genere prima d'ora!» ed entrambi finsero di non accorgersi del cigolio che andava aumentando, mentre il cielo si oscurava sempre più. Nel buio cominciarono a spuntare le stelle. Harry si rimise il maglione, cercando di ignorare che ora i tergicristalli si muovevano debolmente, in segno di protesta. «Manca poco!» disse Ron più alla macchina che a Harry. «Manca poco ormai!» ripetè battendo nervosamente qualche colpetto sul cruscotto. Qualche minuto dopo, quando scesero nuovamente sotto le nuvole, dovettero aguzzare la vista per intravedere nelle tenebre un punto di riferimento noto. «Là!» gridò Harry facendo sobbalzare Ron e Edvige. «Davanti a te!» Contro il nero dell'orizzonte, alte sulla rupe che sovrastava il lago, si stagliavano le molte torri e torrette del castello di Hogwarts. Ma l'auto aveva cominciato a traballare e a perdere velocità. «Dai su!» la incitò Ron con fare persuasivo, dando una piccola scossa al volante. «Dai! Ci siamo quasi!» Il motore gemette. Da sotto il cofano uscivano sottili getti di vapore. Mentre volavano diretti verso il lago, Harry si aggrappò con tutte le forze ai bordi del sedile. L'auto ebbe un fremito sinistro. Guardando giù dal finestrino, a circa un chilometro e mezzo sotto di loro, Harry vide la superficie dell'acqua liscia, nera e cristallina. Le nocche di Ron erano bianche dallo sforzo di reggere il volante. L'auto tremò ancora. «E dai, su!» sbottò Ron. Sorvolavano il lago. Il castello era davanti a loro. Ron pigiò sull'acceleratore. Ci fu un rumore di ferraglie, un crepitio e il motore si spense del tutto. «Oh, oh!» esclamò Ron nel silenzio. Col muso in giù, la macchina cominciò a perdere rapidamente quota. Precipitavano e acquistavano velocità. andavano dritti contro la massiccia muraglia del castello. «No!» gridò Ron sterzando vigorosamente. Evitarono per un pelo la muraglia di pietra nera e la macchina descrisse un grande arco, volteggiando sopra le serre, poi sopra l'orto e poi ancora più in là, sui prati bui, sempre perdendo quota. Ron abbandonò completamente il volante e tirò fuori dalla tasca posteriore la bacchetta. «Ferma! Ferma!» gridò colpendo il cruscotto e il parabrezza, ma la picchiata non si arrestò e il suolo sottostante continuò a venire loro incontro vorticosamente. «Attento a quell'albero!» gridò Harry, cercando di afferrare il volante, ma troppo tardi. «Bang!» colpirono il grosso tronco con uno schianto metallico assordante e piombarono a terra con un gran sobbalzo. Dal cofano accartocciato usciva vapore a fiotti. Edvige gridava di terrore. Nel punto in cui Harry aveva battuto la testa si era formato un bernoccolo grosso quanto una palla da golf e alla sua destra Ron emise un gemito soffocato e lamentoso. «Stai bene!» si affrettò a chiedere Harry. «La mia bacchetta!» disse Ron con voce tremante. «Guarda la mia bacchetta!» La bacchetta si era spezzata praticamente in due. La punta ciondolava inerte, tenuta insieme da qualche scheggia di legno. Harry aprì bocca per dire che certamente a scuola avrebbero saputo aggiustargliela, ma non riuscì a pronunciare neanche una parola. In quel momento, infatti, qualcosa colpì l'auto dalla sua parte con la forza di un toro inferocito, scaraventandolo addosso a Ron, mentre un altro colpo altrettanto forte faceva tremare il tetto. «Che cosa succede?» Ron sussultò guardando attraverso il parabrezza. Harry si voltò appena in tempo per vedere un ramo grosso quanto un pitone che si abbatteva sull'auto. L'albero contro cui si erano schiantati era partito all'attacco. Aveva il tronco piegato in due e i suoi rami nodosi percuotevano ogni centimetro quadrato dell'automobile. «Ahhh!» gridò Ron, mentre un altro ramo contorto ammaccava malamente una portiera. Ora il parabrezza tremava sotto la raffica dei colpi e un secondo ramo grosso quanto un ariete martellava furiosamente il tetto che sembrava sul punto di sfondarsi. «Diamocela a gambe!» gridò Ron buttandosi di peso contro la portiera dalla sua parte, ma un attimo dopo era stato scagliato indietro tra le braccia di Harry da un pugno vigoroso sferratogli da un altro ramo. «Siamo fritti!» gemette mentre il tetto cedeva, ma tutt'un tratto il pianale dell'auto cominciò a vibrare. Il motore si era riacceso. «Ingrana! La retromarcia!» gridò Harry e l'auto partì all'indietro come una freccia. L'albero stava ancora cercando di colpirli. Udivano le sue radici scricchiolare come se avesse voluto svellersi dal suolo e continuava a menare fendenti mentre i ragazzi cercavano di mettersi in salvo. «Per un pelo!» ansi morron. «Bel colpo, macchina!» Ma l'auto era giunta ormai allo stremo. Con due schiocchi le portiere si spalancarono e Harry sentì che il suo sedile veniva sbalzato di lato. Poi non seppe più niente fino a quando si ritrovò sdraiato sul terreno umido. Alcuni tonfi sordi gli suggerirono che l'automobile stava sputando dal bagagliaio le loro cose. La gabbia di Edvige volò in aria e si spalancò. La civetta ne uscì emettendo un grido stridulo e arrabbiato e volò via verso il castello senza voltarsi indietro. Poi tutta ammaccata scorticata e fumante l'automobile si immerse rombando nell'oscurità con le luci posteriori che lampeggiavano di collera. Torna indietro le gridò Ron brandendo la sua bacchetta rotta. Papà mi ammazzerà ma quella scomparve con un ultimo sbuffo dal tubo di scappamento. Certo che siamo proprio fortunati disse Ron sardonico chinandosi a raccogliere crosta il suo topo. Di tutti gli alberi contro cui potevamo schiantarci dovevamo scegliere proprio quello che poteva schiantare noi. si voltò a guardare l'annosa pianta che ancora agitava minacciosamente i suoi rami. Dai disse Henry con voce stanca è meglio che raggiungiamo la scuola. Non fu proprio l'arrivo trionfale che avevano immaginato indolenziti infreddoliti e pieni di lividi presero i loro bauli e cominciarono a trascinarli su per il pendio erboso verso il portone di quercia dell'entrata principale. Penso che il banchetto si è già cominciato disse Ron lasciando il baule davanti agli scalini dell'entrata e avvicinandosi con circospezione per guardare da una finestra vivacemente illuminata. Ehi Henry vieni a vedere è lo smistamento. Henry lo raggiunse di corsa e insieme sbirciarono nella sala grande. Innumerevoli candele galleggiavano a mezz'aria sopra quattro lunghi tavoli riccamente apparecchiati. I piatti e i calici d'oro scintillavano. In alto il soffitto incantato che rispecchiava la volta celeste era tutto sfavillante di stelle. Attraverso il mare di capelli neri a punta dell'uniforme di Hogwarts Henry vide una lunga fila di allievi del primo anno dall'aria spaurita che stava facendo il suo ingresso. Tra questi c'era Ginny riconoscibile per via dei capelli color rosso Weasley. Nel frattempo la professoressa McGonagall una strega occhialuta con i capelli raccolti in uno stretto chignon sistemava il famoso cappello parlante su uno sgabello di fronte ai nuovi arrivati. Ogni anno quel millenario cappello tutto rappezzato consunto e lercio assegnava i nuovi studenti alle quattro case di Hogwarts grifondoro tasso frasso corvo nero e serpe verde. Henry ricordava bene quando lo aveva indossato lui esattamente un anno prima ed era rimasto impalato ad aspettare la sua decisione mentre quello gli bofonchiava all'orecchio i suoi commenti. Per alcuni spaventosi secondi aveva temuto che il cappello lo avrebbe assegnato a serpe verde la casa da cui più di qualsiasi altra erano usciti streghe e maghi malefici ma invece era stato assegnato a grifondoro insieme a Ron Hermione e a tutti gli altri fratelli Weasley alla fine del precedente anno scolastico Henry e Ron avevano contribuito a far vincere a grifondoro il campionato delle case battendo serpe verde per la prima volta in sette anni in quel momento un ragazzo mingerlino dai capelli color topo era stato chiamato a indossare il cappello lo sguardo di Henry non si fermò su di lui ma si fissò sul preside il professor Silente che assisteva allo smistamento seduto al tavolo degli insegnanti con la lunga barba d'argento e gli occhiali a mezzaluna che brillavano sotto il riflesso delle candele seduto qualche posto più in là Henry vide Gilderoy Lockhart che indossava una veste color acquamarina e all'estremità del tavolo c'era Hagrid immenso e villoso intento a bere avidamente dal suo calice aspetta un po' mormorò Henry a Ron c'è una sedia vuota al tavolo degli insegnanti dove è Piton il professor Severus Piton era l'insegnante meno simpatico a Henry e si dava il caso che Henry fosse lo studente meno simpatico a Piton crudele sarcastico e sgradito a tutti tranne agli studenti della sua casa serpeverde Piton insegnava pozioni forse è malato disse Ron tutto speranzoso forse se n'è andato disse Henry perché ancora una volta non è stato nominato insegnante di difesa contro le arti oscure o magari è stato licenziato suggerì Ron con entusiasmo voglio dire tutti lo detestano o forse disse una voce glaciale alle loro spalle sta aspettando di sapere perché voi due non siete arrivati con il treno della scuola Henry si voltò di scatto davanti a loro con il lungo abito nero che svolazzava nella gelida brezza stava Severus Piton era magro con la pelle giallastra il naso adunco e i capelli neri e untuosi che gli arrivavano alle spalle e dal suo sorriso Henry e Ron intuirono di trovarsi in guai molto seri seguitemi intimò Piton senza osare guardarsi i due ragazzi lo seguirono su per le scale e poi nell'enorme echeggiante ingresso illuminato da torce fiammeggianti dalla sala grande si diffondeva un delizioso profumo di vivande ma Piton li sottrasse al tepore e alla luce e li condusse giù per una stretta scala di pietra che portava i sotterranei dentro ordinò aprendo una porta che si trovava a metà del gelido passaggio e facendo segno con la mano rabbrividendo i due entrarono nell'ufficio di Piton sulle pareti spettrali erano allineati scaffali carichi di grossi vasi di vetro nei quali galleggiavano oggetti rivoltanti di ogni genere di cui al momento Harry non voleva proprio sapere il nome il focolare era nero e vuoto Piton chiuse la porta e si voltò a squadrarli e così disse in tono mellifluo il treno non è degno di portare il famoso Harry Potter e il suo fedele compare Weasley volevamo fare un arrivo spettacolare non è vero signorini no signore è stato per via della barriera a King's Cross che silenzio intimò Piton gelido che ne avete fatto della macchina Ron deglutì non era la prima volta che Piton dava a Harry l'impressione di saper leggere nel pensiero ma un attimo dopo quando Piton aprì l'edizione serale della gazzetta del profeta comprese tutto vi hanno visto si bilò Piton mostrandogli il titolo di testa una Ford Anglia volante sconcerta i babbani cominciò a leggere ad alta voce due babbani a Londra affermano di aver visto una vecchia automobile volare sopra la torre dell'ufficio postale a mezzogiorno a Norfolk la signora Etty Baylis mentre stava stendendo il bucato il signor Angus Fleet di Peebles ha riferito alla polizia sei o sette babbani in tutto sbaglio o tuo padre lavora nell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani chiese alzando lo sguardo su Ron con un sorriso ancor più maligno diamine proprio suo figlio Harry ebbe come la sensazione di essere stato colpito allo stomaco da uno dei rami più grossi dell'albero impazzito se qualcuno scopriva che il signor Weasley aveva stregato l'automobile a questo non aveva pensato mentre ispezionavo il parco ho notato che un salice schiaffeggiante una pianta di valore inestimabile sembra esser stato gravemente danneggiato proseguì Piton quell'albero ha fatto più male a noi di quel che sbottò impulsivamente Ron silenzio intimò di nuovo Piton con mio grandissimo rammarico voi non appartenete alla mia casa e la decisione di espellervi non compete a me ora vado a cercare qualcuno a cui spetta questo felice compito voi restate qui Harry e Ron si guardarono bianchi come cenci Harry non aveva più fame ora si sentiva male cercò di non guardare un oggetto grosso e viscido che galleggiava in un liquido verde su uno scaffale dietro alla scrivania di Piton se Piton era andato a chiamare la professoressa McGonagall direttrice di Grifondoro la loro sorte non sarebbe stata certo migliore lei avrebbe potuto essere più giusta di Piton ma era comunque estremamente severa Piton tornò dieci minuti dopo e naturalmente con lui c'era la professoressa McGonagall sebbene Harry l'avesse vista arrabbiata in molte occasioni o aveva dimenticato quanto potessero diventare sottili le sue labbra o non l'aveva mai vista tanto in collera nell'entrare la McGonagall levò in aria la sua bacchetta Harry e Ron indietreggiarono ma lei la puntò semplicemente sul caminetto spento dove subito guizzò il fuoco sedetevi disse e i due ragazzi raggiunsero due sedie accanto al focolare spiegatevi proseguì la McGonagall con bagliori sinistri negli occhiali Ron si lanciò nel racconto cominciando dalla barriera della stazione che si era rifiutata di lasciarli passare e quindi non abbiamo avuto altra scelta professoressa non potevamo prendere il treno perché non ci avete mandato una lettera via gufo penso che tu abbia un gufo chiese la McGonagall gelida rivolgendosi a Harry Harry ricambiò lo sguardo ora che lei lo aveva detto sembrava la cosa più ovvia da fare io io non ci ho pensato questo disse la professoressa McGonagall mi pare evidente si sentì bussare alla porta e Piton che in quel momento sembrava più felice che mai andò ad aprire era il preside il professor Silente Harry si sentì gelare il sangue nelle vene Silente aveva un'aria insolitamente grave dall'alto del suo naso Aquidino squadrò i due ragazzi ed un tratto Harry desiderò di trovarsi ancora insieme a Ron sotto i fendenti del salice schiaffeggiante seguì una lunga pausa poi Silente disse siete pregati di spiegare perché lo avete fatto se avesse gridato sarebbe stato meglio Harry non sopportava la delusione che si avvertiva nella sua voce per qualche ragione non riuscì a guardarlo negli occhi e quindi parlò fissando le sue ginocchia gli disse tutto tranne il fatto che l'auto stregata apparteneva al signor Weasley facendo sembrare che a lui e a Ron era capitato per caso di trovare un'auto volante parcheggiata fuori della stazione sapeva che Silente non avrebbe bevuta ma il preside non fece domande sull'automobile quando Harry ebbe terminato il racconto continuò semplicemente a guardarli attraverso gli occhiali andiamo a riprendere la nostra roba disse Ron con un filo di voce di che cosa stai parlando Weasley tuonò la McGonagall beh penso che saremo espulsi non è così disse Ron Harry gettò una rapida occhiata a Silente non oggi Weasley disse quest'ultimo ma intendo ribadire la gravità di quel che avete fatto stasera scriverò alle vostre famiglie devo inoltre avvertirvi che se rifarete una cosa simile non avrò altra scelta che espellervi fu come se avessero detto a Piton che il Natale era stato soppresso si schiarì la gola e disse professor Silente questi ragazzi si sono presi gioco del decreto per la restrizione delle arti magiche tra i minorenni hanno danneggiato gravemente un antico e prezioso albero senza dubbio atti di questa natura sarà la professoressa McGonagall a decidere la punizione Severus disse con calma Silente loro appartengono alla sua casa e quindi la responsabilità è sua poi rivolgendosi alla McGonagall io devo tornare al banchetto Minerva devo dare alcuni annunci vieni Severus c'è una crostata alla crema dall'aspetto delizioso che non voglio perdermi Piton scoccò un'occhiata di puro veleno a Harry e Ron mentre veniva trascinato fuori del suo ufficio e i due rimasero soli con la professoressa McGonagall che li stava ancora guardando come un'aquila inferocita tu Weasley è meglio che vada in infermeria stai sanguinando non molto disse Ron asciugandosi in fretta con la manica il taglio che aveva sopra l'occhio professoressa volevo vedere lo smistamento di mia sorella la cerimonia la cerimonia dello smistamento è terminata disse la McGonagall anche tua sorella è con i grifondoro oh bene esclamò Ron e a proposito di grifondoro proseguì aspra la McGonagall ma Harry la interruppe professoressa quando noi abbiamo preso la macchina il trimestre non era ancora iniziato e quindi quindi in realtà a grifondoro non dovrebbe essere tolto nessun punto non trova e terminò la frase guardandola con ansia la McGonagall gli lanciò un'occhiata penetrante ma lui fu sicuro che avesse quasi sorriso in ogni caso le sue labbra si erano un po' rilassate non toglierò punti a grifondoro disse Harry sentì il cuore farsi più leggero ma entrambi sarete puniti era meglio di quel che Harry si sarebbe aspettato per quanto riguardava la lettera che Silente avrebbe scritto ai Darsley non c'era da preoccupare si sarebbero solo rammaricati che il salice schiaffeggiante non lo avesse ridotto a una frittella la McGonagall sollevò di nuovo la bacchetta e la puntò verso la scrivania di Piton con uno schiocco apparvero un vassoio di panini due calici d'argento e una caraffa di succo di zucca ghiacciato mangerete qui e poi ve ne andrete direttamente al vostro dormitorio disse anch'io devo tornare al banchetto quando la porta si fu richiusa dietro di lei Ron emise un lungo fischio soffocato pensavo di essere spacciato disse afferrando un panino anch'io commentò Harry prendendone uno a sua volta ma ti rendi conto quanto siamo stati sfortunati disse Ron con la bocca piena di pollo e prosciutto Fred e George devono aver fatto volare quella macchina almeno cinque o sei volte e nessun babbano li ha mai visti a loro inghiottì e diede un altro grosso morso al panino ma perché non siamo riusciti a passare attraverso la barriera Harry si strinse nelle spalle dobbiamo stare molto attenti a quel che facciamo d'ora in poi disse bevendo un sorso di succo di zucca ristoratore quanto mi sarebbe piaciuto andare al banchetto non voleva che ci facessimo pubblicità disse saggiamente Ron non vuole che gli altri pensino che arrivare con un auto volante sia una prodezza quando ebbero mangiato quanti più panini potevano il vassoio tornava a riempirsi da solo si alzarono e lasciarono la stanza percorrendo il familiare tragitto fino alla torre di Grifondoro il castello era immerso nel silenzio sembrava che la festa fosse terminata oltrepassarono i ritratti brontoloni e le armature cigolanti salirono le anguste rampe della scala di pietra e finalmente raggiunsero il passaggio dove si trovava l'ingresso segreto alla torre di Grifondoro dietro al quadro a olio della signora grassa nel suo vestito di seta rosa parola d'ordine chiese lei quando si furono avvicinati disse Harry non conoscevano la parola d'ordine valida per il nuovo anno dal momento che non avevano ancora incontrato nessun prefetto di Grifondoro ma l'aiuto gli giunse quasi immediatamente udirono un passo affrettato dietro alle loro spalle e voltandosi videro Hermione che correva verso di loro eccovi ma dove vi eravate cacciati sono girate le voci più assurde c'è chi dice che siete stati espulsi perché avete avuto un incidente con una macchina volante beh non siamo stati espulsi la rassicurò Harry non vorrete mica dirmi che avete veramente volato fin qui chiese Hermione con un tono severo quanto quello della professoressa McGonagall risparmiati la ramanzina disse Ron impaziente e dici la nuova parola d'ordine colibri disse Hermione altrettanto impaziente ma non è questo il punto ma le sue parole vennero interrotte da un'improvvisa raffica di applausi quando il ritratto della signora grassa lasciò aperto il varco sembrava che l'intero dormitorio di Grifondoro fosse sveglio erano tutti pigiati nella sala comune circolare in piedi sopra i tavoli sbilenchi e sulle molli poltrone in attesa del loro arrivo alcune braccia si tuffarono attraverso l'apertura lasciata dal quadro per tirare dentro Harry e Ron e a Hermione non rimase che affrettarsi a seguirli eccezionale gridò Lee Jordan un vero colpo di genio che arrivo spettacolare a bordo di una macchina volante dritta dritta sul salice schiaffeggiante se ne parlerà per anni complimenti disse un ragazzo del quinto anno con cui Harry non aveva mai parlato qualcuno gli stava battendo sulle spalle come se avesse appena vinto una maratona Fred e George si fecero largo per guadagnare la prima fila e dissero all'unisono dite un po' perché non ci avete chiamati Ron era paonazzo e sorrideva imbarazzato ma Harry vide qualcuno con l'aria tutt'altro che allegra Percy sovrastava alcuni ragazzi del primo anno eccitatissimi e sembrava assolutamente intenzionato a dar loro una bella lavata di capo Harry diede una gomitata nelle costole a Ron e accennò al fratello Ron afferrò al volo devo andare di sopra sono un po' stanco disse e insieme a Harry cominciò a farsi largo verso l'altra parte della stanza dove si trovava la porta che conduceva alla scala a chiocciola e quindi ai dormitori notte disse Harry a Hermione che aveva messo su un cipiglio come quello di Percy riuscirono a guadagnare il lato opposto della sala comune sempre accompagnati da sonore pacche sulle spalle e poi finalmente raggiunsero la pace della scala a chiocciola salirono di corsa fino in cima ed ecco la porta del loro vecchio dormitorio che ora portava un insegna con su scritto alunni del secondo anno entrarono nella ben nota stanza rotonda con i cinque letti a baldacchino circondati da tende di velluto rosso scuro e con le finestre alte e stritte i bauli erano già stati portati di sopra e posti ai piedi dei loro letti Ron rivolse a Harry un sorriso colpevole lo so che non mi sarei dovuto divertire tanto ma la porta del dormitorio si spalancò ed entrarono i loro compagni del secondo anno Simus Finnegan Dean Thomas e Neville Longbottom incredibile esclamò Simus radioso grandi commentò Dean fantastico disse Neville reverente Harry non poter esistere anche lui si sciolse in un largo sorriso grazie a tutti